Finita la prima saluta del Consiglio Comunale, impressioni? Tanta aria fritta, non si è parlato di niente, non si è parlato di nulla, è una burocrazia che fa spendere soldi inutilmente ai cittadini. È emersa la questione ineligibilità di buon vicini? Saranno poi gli organi di competenza a verificare se è incompatibile la sua elegibilità oppure no.